L'eternità è inquantificabile. Guida. Mai confondete il mio parlare con i vostri pensieri, quando io vi dico io sono. Ogni spirito possiede un nucleo individuale, pur essendo egli infinitesima frazione del nucleo centrale, assai più ampio e radiante e assai più complesso, dal quale tutto è di partito e nel quale tutto è destinato a riassorbirsi. Soltanto allora lo spirito rinnegherà la propria individualità per ritornare ad essere l'uno, ma dopo tale trasmutazione altre emanazioni susseguiranno come sempre avvenuto ed altre, altre e altre ancora, perché l'eternità è inquantificabile e l'unica espressione calzante che l'essere può attribuirle è questa, senza un inizio e senza una fine. Luce a voi figli.